ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo come realizzare questo bellissimo motivo trafolato a una retina particolare molto fine molto elegante perciò anche facilmente adattabile per i diversi progetti qui abbiamo già realizzato un campioncino per farvi vedere appunto l'effetto finale e far vedere che da entrambi i lati si presenta nello stesso modo senza tirare da un lato o dall'altro anche dalla parte rovescio si presenta molto bene con questa a sua volta con un motivo è un progetto che potete motivo scusatemi che potete andare ad adattare facilmente per i diversi progetti come cardigan maglioni estivi anche le sciarpe il nostro motivo è un multiplo di tre maglie quindi per il nostro campioncino noi ora andiamo a viare 15 maglie che sono le maglie dedicate al motivo più una maglia per la simmetria più due maglie di vivagno quindi in totale noi ora andiamo a avviare 18 maglie e per l'avvio andiamo a utilizzare avvio alla nordica ecco qui abbiamo avviato le nostre 18 maglie ora partiamo con il nostro primo ferro e andiamo a fare tutto a rovescio per mettere appunto la base della futura lavorazione ed ecco qui abbiamo messo la nostra base ora possiamo partire con il primo ferro del nostro motivo la nostra maglia di vivagno noi la facciamo passare iniziamo noi dobbiamo prendere in considerazione le tre maglie che sono le maglie appunto del motivo e andare a fare questa particolare lavorazione per creare la nostra retina dobbiamo andare a entrare in asola di prime due maglie della nostra coppia da tre maglie dagli dietro ricavando una maglia a diritto in questo modo ricaviamo una maglia a diritto ma non facciamo ancora cadere le maglie facciamo cadere solo la prima la seconda rimane sul ferro ora per lavorare la seconda noi dobbiamo convolgere anche la terza maglia e dobbiamo fare un'altra diminuzione quindi andiamo entriamo in asola di due maglie quindi la seconda e la terza ma stavolta da davanti in questo modo entriamo quindi in asola di queste due maglie da davanti ricavando sempre un'unica male quindi facciamo la diminuzione con l'entrata da davanti una da di dietro una da davanti facendo queste due diminuzioni noi da tre maglie ne abbiamo ricavato due e dobbiamo andare a recuperare la terza facendo questo semplice gettato perché dobbiamo sempre mantenere il nostro numero delle maglie e con questo gettato noi creiamo appunto anche forlino della rete stessa cosa con la successiva coppia di tre maglie entriamo in asola di due prime due maglie dalla coppia di tre ricaviamo una maglia, prima maglia una volta che l'abbiamo ricavato facciamo cadere la prima maglia della coppia in questo modo vedete la seconda rimane sul ferro perché ora verrà coinvolta la seconda e la terza da loro due noi ricaviamo una maglia quindi andiamo a fare un'altra diminuzione ma stavolta entrando da davanti in questo modo come facciamo noi entriamo da davanti e ricaviamo una maglia ecco che abbiamo creato due maglie andiamo a recuperare la terza maglia con un semplice gettato ed ecco che abbiamo già fatto primi due motivi primi due piccoli blocchi possiamo dire così ora noi dobbiamo andare a procedere così per tutte le maglie vediamo un'altra insieme entriamo in asola di prime due maglie dalla coppia di tre maglie ricaviamo una maglia e facciamo cadere la prima nel primo caso siamo entrati da dietro entriamo da davanti di nuovo in due asole in cui coinvolgiamo anche la ultima e andiamo a recuperare la maglia diminuita con un gettato ecco che siamo arrivati alla fine abbiamo ultima maglia la maglia di simmetria la andiamo a lavorare a diritto e anche la maglia di vivagno la lavoriamo a diritto ed ecco questo il nostro ferro numero uno il ferro di andata il ferro di ritorno che è il ferro in cui abbiamo tutte le mali che si presentano appunto a rovescio noi le andiamo a lavorare a rovescio tutte anche quelli che si sono realizzati creati con il gettato ed ecco qui abbiamo fatto anche il nostro ferro di ritorno abbiamo fatto i nostri primi due ferri ora partiamo con il ferro numero 3 ferro di andata qui noi ci ritroviamo ora con la nostra maglia di simmetria che si trova stavolta su questo ferro numero 3 non più alla fine ma all'inizio quindi la andiamo a lavorare come la semplice male di simmetria a diritto nel ferro numero uno invece del nostro motivo va lavorato alla fine quindi il ferro numero uno alla fine e il ferro numero tre all'inizio la male di simmetria anche il nostro gettato nel ferro numero tre non va più fatto alla fine dopo le due dimissioni ma all'inizio quindi subito dopo la maglia di simmetria facciamo un gettato e andiamo a fare la lavorazione particolare di nostre tre male nello stesso identico modo come l'abbiamo fatto nel ferro numero uno i cambiamenti, i modifiche sono proprio queste che la maglia di simmetria all'inizio e anche la maglia di gettato va fatta prima di partire con le diminuzioni con le lavorazioni della coppia delle mali di tre ferri e così dobbiamo procedere per tutto il ferro gettato entriamo in asola di due mali da di dietro ne ricaviamo un'unica malia facciamo cadere una entriamo in asola di due mali coinvolgendo stavolta anche la terza malia della coppia e ricaviamo un'unica malia entrando da davanti e così procediamo per tutto il ferro ecco siamo arrivati alla fine del terzo ferro e come vedete abbiamo solo la coppia da tre mali non c'è più la malia di simmetria perché l'abbiamo lavorato all'inizio del terzo ferro quindi andiamo facciamo il nostro gettato e la nostra lavorazione particolare di tre mali in cui andiamo appunto da tre ricavare due malie la malia di vivagno ora il nostro ferro di ritorno che è anche il ferro conclusivo del nostro motivo va lavorato tutto a rovescio quindi i ferri pari come il 2-4 vanno lavorati a rovescio anche i gettati tutte le malie ed ecco qui dopo aver fatto anche il quarto ferro possiamo dire che abbiamo visto come appunto realizzare questo meraviglioso motivo trafolato a questa rete davvero molto bella molto fine e che si presenta e cresce nello stesso identico modo da entrambi i lati senza tirare da uno o dall'altro lato ora noi non dobbiamo fare altro che andare mantenere questa lavorazione di quattro ferri per tutta la lunghezza del nostro progetto guardate che meraviglia dopo che abbiamo portato per alcuni centimetri la nostra lavorazione diciamo che con i filati di diversa dimensione si presenta sempre in modo molto bello e molto curato speriamo che il motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare bene tutti i passaggi grazie che siete rimasti con noi e al prossimo video tutorial grazie a tutti